Questo programma è offerto da Tecnocampus Lunedì 13 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti come sempre alla quotidiana Rassegna Stampa Anche oggi offerta da Tecnocampus Tanti sono i fatti in primo piano sulle testate nazionali A partire dai 100 anni degli Alpini Con una sfilata sensazionale ieri per le strade di Milano Ma ancora continuano le polemiche all'interno del governo Sono troppe le rotture che comunque si stanno avendo in questo nostro governo Gli scontri sono all'ordine del giorno E in primo piano questa mattina Una notizia che arriva direttamente dal Vaticano Leli Mosiniere che diventa per una volta elettricista Ovviamente sto scherzando Però cominciamo a vedere subito le informazioni in primo piano E partiamo dal Corriere della Sera Dove andiamo a vedere tutti i fatti E vediamo che nella parte alta della pagina Si parla proprio del nostro governo Che secondo questo quotidiano è alla resa dei conti Corsa nuove misure prima del voto Aiuti dal Papa a un palazzo occupato E Salvini dice paghi le bollette Dopo gli attacchi della Lega Tagliate tre puntate a Fazio Polemiche intanto nella RAI E infatti più si avvicina il voto per le europee Più sale la tensione dentro la maggioranza E tra maggioranza e opposizione Nel governo sembra arrivata la resa dei conti E c'è una data precisa lunedì 20 maggio si tratta del giorno Concordato giovedì Ma non ancora definitivo del prossimo Consiglio dei Ministri L'unico e l'ultimo prima delle europee Ieri sera Fabio Fazio ha annunciato in diretta Che la RAI ha deciso di tagliare tre puntate Del suo programma del lunedì E sempre ieri è salita di tono la polemica Per le limusiniere di Papa Francesco Che a Roma ha acceso la luce a un palazzo occupato E Salvini giustamente prontamente risponde Adesso paghi anche le bollette arretrate E ancora vediamo le altre notizie Vediamo infatti che cosa risponde Le limusiniere del Papa Krajewski, il Cardinale dice L'ho fatto per i bambini Il Cardinale nel Pozzo, l'inviato del Papa Riattiva la luce nelle case occupate L'ho fatto per i bambini E dice sono assolutamente pronto a pagare Insomma non è sicuramente un gesto Che è passato inosservato E ovviamente la risposta si è fatta subito sentire La dialettica si riapre E soprattutto la polemica adesso si sposta Non più solo all'interno del governo Ma tra lo stesso governo in particolare Salvini E anche città del Vaticano E vediamo ancora il sottosegretario leghista Rixi, così non si va avanti Basta con questo Vietnam E i 5 stelle Pensano che si possa governare così Dopo il 26 servono un ministro e un commissario Così racconta Rixi al Corriere della Sera Leghista, sottosegretario delle infrastrutture E intanto vediamo quelli che sono gli altri fatti In primo piano Fascisti e democrazie Raccontati da Ernesto Galli della Loggia Nell'editoriale Elezioni storiche da Torino E infatti l'attacco del pezzo Dice proprio così È noto che la dodicesima Delle disposizioni transitorie e finali Nella nostra Costituzione Vieta la ricostituzione Sotto qualsiasi forma Del disciolto partito fascista Assai meno noto però È il secondo comma di quella disposizione In esso si disponeva Che a dispetto del riconoscimento Della qualità di elettori A tutti i cittadini E capi responsabili del regime fascista Il diritto di voto e elegibilità Fossero negati Ma non per sempre E infatti è per non più Di cinque anni Solo per cinque anni Poi basta praticamente dunque Solo per le elezioni politiche Del 48 Lo ripeto Si trattava non di fascisti In generale Bensì dei capi responsabili Del regime fascista Vale a dire Di coloro che avevano Presumibilmente organizzato Lo squadrismo E le spedizioni punitive E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Dietro le assunzioni Che cosa c'è E vediamo proprio Quello che racconta Questa mattina Il Corriere della Sera Pubblico impiego Quattro difetti E molta imperizia Si rimette infatti In moto La macchina delle assunzioni Nel pubblico impiego Perché ce n'era bisogno Il lavoro è sempre In primo piano Il lavoro rappresenta Sempre più Una necessità Impendente per tutti E ricordiamo che il lavoro Serve in primo luogo Per dare quella dignità Che troppo spesso È negata All'uomo d'oggi E ancora vediamo Nella parte centrale Della pagina Un'immagine Che la racconta Attraverso i colori E ovviamente Il movimento Sfilano infatti In centomila Pensate un po' Per dodici ore A Milano E stiamo parlando Proprio degli alpini In ordine uniti Emozioni antiche E infatti Dal vecio di centosei anni Alla medaglia d'oro Per dodici ore L'orgoglio degli alpini Invade le strade di Milano E la metropoli Restituisce applausi A bracci Sfilano in verde Bianco, rosso Con la camicia scozzese Ancora in polo blu Magliette di tanti colori Ma in testa Il tradizionale cappello Con la penna nera Musica Cori di montagna Soldati in divisa Un serpente infinito Con il ministro Trenta Che dice Sono il simbolo dell'Italia Che si è riunita Che ha affrontato Le guerre E ne è uscita Adesso si aspetta Come una festa Da celebrare Nuovamente L'anno prossimo Dove la manifestazione Si svolgerà a Rimini Come già annunciato appunto Dagli alpini Quest'anno a Milano E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Vediamo nella parte bassa Della pagina Il bambino Tiranno E il bambino Giorgio Perché giudicato in famiglia Un prodigio di bellezza fisica Bontà e intelligenza Era temuto C'erano il padre La madre Il nonno e la nonna Le cameriere E tutti vivevano Sotto l'incubo Dei suoi capricci Ma nessuno Avrebbe usato Confessarlo Anzi era una continua gara A proclamare che un bambino Caro, affettuoso Docile come lui Non esisteva al mondo Ciascuno voleva primeggiare In questa sfrenata adorazione E tremava al pensiero Di poter involontariamente Provocare il pianto Del bambino Così comincia Un racconto di Buzzati Nel 1954 Nel quale narra Le tragiche conseguenze Dell'incapacità Di esercitare L'autorità Da parte di adulti Che inseguendo il consenso Del loro bambino Finiscono per adorarlo E quindi rovinarlo Non vi ricorda proprio L'esistenza che troppo spesso Troviamo raccontata Nelle vicende umane Del giorno d'oggi Quando i bambini Sono viziati E sempre più considerati L'elemento Non importante Della nostra società Ma l'elemento Che deve essere Sempre più tenuto A bada Insomma Molto spesso I genitori Sembra quasi Che non abbiano La volontà Di farsi rispettare Dai bambini Quanto cerchino Piuttosto Il consenso Degli stessi E così non creano Dei bambini Veri e propri Ma dei piccoli adulti Che crescendo Ovviamente Smettendo le fattezze Del bambino Diventano sempre più Adulti Inconsapevoli Della capacità Di essere Appunto Esseri umani Insomma Veramente Una rovina Proprio Per la nostra società Ma continuiamo a vedere I fatti Raccontati Nelle prime pagine Delle testate nazionali Ci spostiamo ora Sul fatto quotidiano E vediamo che anche qui Nella parte alta Della pagina Si parla proprio Del cardinale Lemosiniere del Papa Che riattacca La luce agli occupanti Di un palazzo Salvini lo fulmina Paghi le bollette Gli conviene fare pure La guerra al Vaticano Si interroga appunto Il fatto questa mattina E ancora Destra Sinistra Verdi Così i leader europei Vedono l'Unione Europea Futura Il programma dei gruppi In corsa Verso il 26 maggio E ancora I racconti dei greci Prima e dopo La cura della troica L'inchiesta media Parte dopo Quattro anni di Zipras E nella parte centrale Della pagina Eccoci qua Movimento 5 Stelle Contro i conflitti Di interessi Forza Italia spara Fuggi fuggi Di lega e PD 25 anni dopo Di Maio Martedì Legge alla Camera Salvini non è una priorità E infatti Da domani Movimento 5 Stelle Vuole calendarizzare Alla Camera La proposta di legge Sul conflitto Di interessi di Di Maio E nel contratto Salvini Prioritari Altre riforme Forza Italia Alle barricate E adesso Alza le barricate E conta sulla Lega E sul PD Che manda avanti Le seconde linee E parlare E ovviamente A parlare A Casareggio Insomma Si racconta Appunto Quello che sembra Essere sempre più Lo scontro All'interno Del nostro governo Ed ancora La storia De copertina La pianta Che divide L'erba Delle polemiche Il piano segreto Di Unipul Infatti Il ministro Salvini Schiera i prefetti Contro i negozi Di Canapalite Ecco come funziona Il mercato Tutto raccontato In queste pagine E si continua Ancora a parlare Di Siri Il mutuo a San Marino E l'amico socio Di Giorgetti Stasera Report La puntata Numero 2 Mentre Nella parte bassa Della pagina Nel 1908 150 miglia al giorno Dai Pirenei Il tour Di Lores d'Arabia Sulla bici Pensate un po' Costruita Da Morris E mentre Nella parte Sempre bassa Della pagina Fantasia Umbra Il vice sindaco Va all'opposizione Di se stesso Dal centro sinistra Alla destra E insomma Questo è quello Che viene appunto Raccontato in queste pagine Quando c'è uno spostamento In termini politici E sembra che Le linee di confine Tra quello che è Il pensiero politico Sembrano Proprio Non esistere più Ancora vediamo Questa mattina Libero La prima pagina Di questo quotidiano Maggioranza scossa Dalle politiche Traballando con le 5 stelle Matteo e Gigino Come nel programma Della Carlucci Uno è capace L'altro no Entrambi però Danzano Sperando di essere Premiati dai sondaggi Ma nei volteggi Si pestano i piedi Finiranno fuori pista E intanto Telepartigiani Gruber Più rossa Pure di Zingaretti E nella parte centrale Della pagina La commissaria Mogherini Ha collezionato Solo flop Finalmente se ne va Neppure il PD A quanto pare La vuole più E continuiamo a vedere I paesi dell'est Saranno cattivi Però crescono un sacco E infatti Anche dice Anche questa prima parte Altro che Merkel E Macron Ecco gli esempi Da seguire In realtà In Europa E ancora una volta Vediamo gli esempi Ecco qua Cosa ho imparato In un anno dagli alpini Quella che viene raccontata Come una vera e propria Lezione di vita Mentre nell'articolo Al di sotto Di questa prima parte Vediamo proprio Un buco Da 300.000 euro Il Papa Ridà la luce A chi occupa Case E non paga Bollette E ancora nella parte Bassa della pagina Eccoci qua Vediamo che cosa Racconta in questa parte Bassa Il Libero L'editore del libro Su Salvini Gli antifascisti Ora mi augurano Figli gay E ancora Razza in estinzione Protetta in riserve Università in campo Per la gallina Padovana Insomma La riscoperta Di quelle che sono Le ricchezze Di un territorio Sempre più inesplorato E ancora vediamo Il tempo E nella parte alta Della pagina Titola proprio così Questa mattina Il cardinale Fa uno scherzo da prete Le musiniere del Papa Va a riattaccare La luce A un'occupazione Morosa per 300.000 euro Nello stabile Osteria Teatro e concerti E in Vaticano Si mastica Amaro Autogol Sotto le elezioni E nella parte centrale Lo sport Fiorenzi Umilia Ronaldo Che lo sfotteva Grande gara contro La Juventus Il 2 a 0 CR7 Punge il capitano Che si vendica Col gol E ancora Nella parte bassa Eccoci qua Il fermato Romeno avverso Un interrogatorio Ma nei filmati C'è un blackout Tra l'uno e mezza L320 Quelle due ore di buco Nel giallo Di Ponte Sisto E ancora Strade off limits Pure alle moto ZTL Servaggia in centro Oggi chiude Il Tridentino E ancora Nella parte bassa Della pagina Eccoci qua Albano Lancia la candidatura Per il festival Lei dice Sono un uomo giusto Dopo Baglioni Sanremo Tocca a me Ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano E questa volta Ci spostiamo Sulla Repubblica Il Robin Hood Del Papa Viene raccontato così L'elemosiniere del Papa Gesto clamoroso Di padre Corrad Cardinale Elemosiniere del Vaticano In uno stabile Occupato di Roma Rompe i sigilli Per ridare l'elettricità Ai residenti L'ultradestra Di Forza Nuova Risponde con uno striscione Ovviamente contro Bergoglio E intanto Vediamo che Proprio viene raccontato così Il sottosuolo Degli ultimi È sceso proprio Nel sottosuolo E ha rimesso In funzione L'elettricità Togliendo appunto I sigilli Ed ecco qua Chi non piace Francesco Ovviamente Ci sono Fattori politici E ancora Nella parte destra Della pagina Di contro Vediamo Salvini La bestia leghista Che fabbrica il consenso Come funziona Il team social Di Salvini Attaccato da Renzi Facebook Chiude 23 pagine Di bugie E istigazioni All'odio E infine Il capitano Contro tutti E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano L'Europa di domani Non ha paura Dell'altro Questa è l'inchiesta Che viene fatta appunto Da Repubblica E ancora una volta Si parla Delle tre puntate Cancellate Punire Fazio Il nemico Della RAI Sovranista Ancora continuiamo A vedere le prime Pagine quotidiane Ci spostiamo Sul giornale Il pizzino di Renzi S.A.S.P.D. Toghe contro Salvini Le 49 milioni Della Liga Usati per le fake news Facebook Chiude Pagine Pro Giallo Verdi Hanno manipolato 2,4 milioni Di italiani E ancora Nell'editoriale Di Macloce Valori a rovescio Una Repubblica Fondata Sugli anti Mentre Il denaro Come reato Una follia Contro Berlusconi Ricchi fuori dal Parlamento E anche da questa prima pagina Milano abbraccia Gli alpiri Tecnici Che servono al paese La stilata Dell'orgoglio Chiude La durata Ed infine Il Vaticano Fa l'elemosina Gli occupati abusivi Roma nel caos Cardinale Riattacca la luce E le ONG Sono pronte a ricevere Multe in arrivo Ma fatturati Alle stelle Infine Nella parte bassa Fazio scoppia caso Sulle puntate Tagliate Le lamentere Del conduttore Dopo lo scontro Con Salvini Mentre i paradossi Del salone di Torino Se il salone Accetta chiodi Ai diritti umani Siamo veramente In alto mare E i consigli In un libro In un ufficio È una guerra Parola di Nevis E questo viene raccontato Sempre più Nelle vicissitudini Di questo salone Ancora vediamo Questa mattina Come ci presenta I fatti Il quotidiano Campano Il mattino E vediamo Nella parte alta Della pagina Fume arrosto Si parla del destino Ci riserva solo Quello che abbiamo Meritato Secondo Gervaso E il focus Schiavi da videogiochi Voti bassi A scuola E perdita del sonno Se ne è sempre parlato Oggi se ne parla ancora di più Viene visto proprio Come un elemento Disturbante Nella vita Dei più giovani I giochi Videogame Anche se molto spesso Sono stati considerati Proprio un mezzo Importante Di educazione E soprattutto Di risveglio Delle facoltà Adesso invece Sembrano generare Un generale Assopimento E il concerto Gilmore La notte magica Di Pompei Rivive su Youtube Le chitarre all'asta Mentre nella parte centrale Della pagina Si parla di europee 4-0-0-7 Social Contro chi inquina il voto Fake news e odio Sul web Facebook e Google Collaborano con i servizi italiani USA Cruse 23 pagine Con 2,4 milioni di iscritti La metà Erano vicine Allega E 5 stelle E ancora Vediamo il cardinale Nel pozzo Per ridare la luce Alla casa occupata Il blitz Delle remusiniere Del papa Salvini O ripaghi Le bollette Arretrate E intanto L'analisi Che ne deriva Come ripristinare La legalità Tra gli stati Mentre per La parte sportiva Il campionato SPAL-KO Il portiere decisivo Meretto Un futuro da leader Noi presto Come la Juve Mentre Alla Nerui Quei segnali Al Napoli E ancora Vediamo nella parte Destra L'inchiesta Si parla ancora una volta Di Noemi Le sue condizioni Sembrano migliorare Anche se la prognosi Ancora non è stata sciolta C'è ancora tempo Per valutare tutto Oggi Nella giornata di oggi Arriverà un nuovo Bollettino medico Intanto il killer Ha buttato via Il cellulare Dopo l'agguato Infatti aveva Un telefono criptato Che ha provveduto A buttare Immediatamente Dopo Essere finito Nel mirino Delle indagini Sul ferimento Della piccola Noemi E questo Quello che Al momento La procura Di Napoli Ha potuto Ottenere Nei confronti Di Armando Del Re Il 29enne Accusato Di aver sparato In piazza nazionale Lui si difende Dicendo Io non c'entro nulla Intanto L'inchiesta archiviata Diene quattro anni Di fango Sull'icona Dell'antimafia E ancora Vediamo sempre In questa prima pagina Nella parte bassa Della pagina Oggi è la grande giornata Per quanto riguarda Il via Verso Gli ultimi giorni Delle vele Scampiano Nego Morra Oggi parte appunto L'abbattimento Vediamo proprio L'immagine Di questa struttura Ma soprattutto No A Gomorra Ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Sempre nelle testate nazionali La stampa di Torino La sfida del pontefice Luce al palazzo Occupato da migranti E diseredati Le lemosinere del papa Rompe i sigini Non possono vivere In quella condizione Savine Ora paghi Le bollette arretrate Mentre Di Maio Noi stiamo con Francesco Nel bar di Denia Intanto Diventato rifugio Per gli immigrati Il grande affare Dei concorsi Per magistrato Viene raccontato Appunto In questa prima pagina Ancora L'euro goal In sforbiciata di Belotti Tiene vivi i sogni Del Toro E ancora Vediamo nella parte bassa Sempre per quanto riguarda Lo sport Formula 1 in Spagna Quinta doppietta Mercedes Vince Hamilton La Ferrari Ora è un caso Mentre il mito Compie Ottant'anni Berruti L'Italia d'oro Anni sessanta Che accoglieva tutti E continuiamo proprio Sul filone dello sport Vediamo il Corriere dello sport Questa mattina Come annuncia Le prime notizie di oggi Presidente Da Palermo a Firenze E a Roma La saga della delusione Ci vuole passione Esaurita la fase Dell'entusiasmo Molti proprietari Si ritrovano impreparati Nell'affrontare Crisi e contestazioni L'analisi di un fenomeno Tutto italiano Mentre nella parte centrale Aggrappatissimi Ed ecco qua Vediamo proprio Un'immagine più che eloquente La Roma batte la Juve 2 a 0 Prende Milan E resta in corsa Champions Firenze risponde a CR7 Che lo aveva deriso Con il cucchiaio del 1 a 0 Allegri Imminente L'incontro con Agnelli Tornate a vincere E sarà Dice Sarà Tornare a vincere Sarà molto più difficile Intanto L'Empoli Inguaglia Sei squadre La corsa salvezza Che fa paura Tutti Classifica corta Dopo i successi Dei Toscani Dell'Udinese Cagliari E Viola Tremano A 40 E infatti Stasera C'è Bologna Parma Intanto Inter Rabbia Spalletti Ancora Continuiamo a vedere Le pagine Del quotidiani Che raccontano Lo sport E vediamo Infatti Juve KO 2 a 0 Negli ultimi Minuti Ronaldo Nervoso E a secco Vede Allontanarsi Il trono Del gol E riflette Sul futuro La Roma Intanto Spera ancora Nella Champions E a quanto pare Viene definito Proprio Il re triste Ancora Vediamo il giro D'Italia Oggi La terza Tappa Viviani Amaro Il primo sprint Che però Finisce In beffa E sempre Sul calcio Inter Spalletti Grida Dalle Spie E schiaccia Conte E anche per questa mattina Per la prima parte Della Rassegna Stampa È tutto Vi lascio adesso A qualche attimo Di pubblicità Ma non temete Non andiamo via Ritorniamo subito dopo Quindi voi Aspettateci E godetevi Questi momenti Di pubblicità Via Una La Queda Ma La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Correva il dicembre del 1997, più di 20 anni fa. Scampia non era ancora sinonimo di Gomorra, ma forse quel primo fallimento ha influenzato anche le lungaggini successive di un progetto che oggi entra nella sua fase finale. Altre vele sono state poi abbattute nel tempo, una del 2000 e una del 2003, ma il cantiere che apre oggi avvia un programma in cui è scritto anche il futuro dell'area completamente liberata o quasi dall'alimento edilizio che ha maggiormente caratterizzato in questi anni. E così si apre appunto questo cantiere ed è una svolta proprio in termini per Napoli e la sua scampia. Ancora vediamo i fatti in primo piano, continuiamo proprio a vedere che cosa viene da Napoli e vediamo sulla parte sportiva la vittoria dei Gregari con Allan e Mario Rui. Vediamo proprio quest'immagine che segna un gioco che ha determinato la vittoria del Napoli a Ferrara contro la spalla e continua così la sua marcia verso gli 82 punti in classifica. Obiettivo dichiarato di Carlo Ancelotti, ne mancano sei, ma era fondamentale conquistare l'intera posta in palio al Paolo Mazza. Gli azzurri ci sono riusciti nel finale con il guizzo di Mario Rui, il sinistro del portoghese significa il pareggio dei padroni di casa realizzato sul rigore del Petagna al vantaggio iniziale di Allan. Decisivo Meret si esalta davanti al suo ex pubblico con una serie di parate decisive e lui infatti a blindare il successo della squadra di Ancelotti. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano proprio che arrivano da Napoli, ci spostiamo dalla parte sportiva a quella che è appunto la parte di cronaca che riguarda ancora una volta Noemi. Migliore inizia la riabilitazione, infatti sono buone notizie dal bollettino di ramato all'ospedale Santo Bono. Questo nella giornata di ieri, le condizioni della piccola Noemi sono stabili in miglioramento. Lo comunicano i medici dell'ospedale Santo Bono nell'ultimo bollettino diffuso sulla bimba di 4 anni ferita il 3 maggio in un agguato nel centro di Napoli. Noemi si legge nella nota diffusa dall'ospedale, continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l'equip di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione, la prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino appunto sarà annunciato nella giornata di oggi. Ed ancora vediamo quali sono i fatti in primo piano. Si parla ancora di Noemi, questa volta per una manifestazione che si svolgerà oggi proprio in suo onore. Lunedì torniamo a Piazza Nazionale per Noemi a parlarne e appunto Pasquale. Vediamo infatti, è ancora vivida l'immagine di centinaia di candele accese davanti ai cancelli dell'ospedale Santo Bono dove è ricoverata la piccola Noemi. Il giorno dopo la piccola si sarebbe risvegliata, o piccolo miracolo lo definisce Pasquale, uno dei fedeli della Madonna dell'Arco che si è fatto promotore dell'iniziativa insieme alle altre associazioni. Senza alcuna distinzione di stemmi o associazioni, spiega infatti, abbiamo deciso tutti insieme di spegnere i cellulari e scendere in piazza per recuperare il vero senso della comunità. Non erano solo presenti associazioni napoletane ma di tutta la campagna una comunità unita in preghiera. Speriamo che nessuno abbandoni la piazza perché sarebbe come sparare di nuovo contro Noemi che è il cuore della città, Noemi è figlia di tutti noi, dice appunto quest'uomo tutto napoletano. E ancora vediamo che anche nella giornata di ieri si è pregato tanto per Noemi perché tanti sono vicini alla sua famiglia, ovviamente rivivono questa vicenda proprio come se fosse accaduta a un figlio loro perché inevitabilmente quando un simile fatto così grave colpisce un bambino ci sentiamo tutti sempre più vicini. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, si continua a parlare ancora sulle prime pagine appunto della vicenda di Noemi, questa volta però nei confronti del killer. Bomba ferita a Napoli, i fratelli killer buttarono via il cellulare dopo l'agguato. Vediamo l'immagine di quello che è il presunto killer, aveva un telefono criptato che ha provveduto a buttare via appena capito di essere finito nel milino delle indagini il sofferimento della piccola Noemi, ha fatto appena in tempo ad uscire dalla questura. Domenica 5 maggio, due giorni dopo gli spari di Piazza Nazionale, che ha dato inizio a un piano strategico finalizzato a darsi alla macchia e diventare invisibile. Questo è uno dei punti sostenuto a procura di Napoli nei confronti di Armando del Re, il 29enne delle case nuove in cella da venerdì scorso con l'accusa di essere l'uomo nero, quello che ferisce a colpi di pistola, il 31enne Salvatore Nurcaro, ma anche una bambina di soli 4 anni e soprattutto l'abbandona e ovviamente lascia tutti sgomenti. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, la festa all'armatori di Napoli con Caffiero De Rao e De Magistris. Cala e si pari un fatti definitivo sulla B con l'ultima giornata disputata tra le mura amiche. L'amatori Napoli Rugby saluta così il suo caloroso pubblico con la ventesima vittoria stagionale su 22 gare disputate e festeggia la memorabile impresa. Passa in secondo piano, è successo per 23 a 15 sui frascati Rugby Club 2015, tre le mete siglate da Giuliano Testa, Paolo Gisoni e Valerio Antonelli, due i piazzati di Vincenzo Gargano. Filadisce un incontro diretto in maniera impeccabile dal napoletano Massimo Salerno. Insomma un fine settimana di sport, ovviamente di bello sport, ma continuiamo a vedere le notizie in primo piano e poi dopo ci renderemo conto anche del perché le altre notizie sportive ci faranno esultare. Ancora vediamo cronaca, ride con l'estintore, l'ennesimo atto di sabotaggio all'ospedale del mare. Infatti i gnoti probabilmente nella notte tra sabato e domenica hanno scaricato un intero estintore nei corridoi e nei locali attegui all'emodinamica rischiando di produrre danni irreparabili a costosi macchinari e l'inesco del sistema antincendio che ha bloccato le porte di comunicazione e un riparti ha però evitato il peggio. Insomma sembra che le situazioni che si stanno verificando in questo ospedale siano sempre peggiori e siano sempre più ad alto rischio proprio per i pazienti. Vorrei proprio dire a queste persone che sabotano queste strutture che non fanno sicuramente un bene a chi comunque già sta vivendo una situazione precaria. Fate attenzione perché con la vita non si scherza. E ancora vediamo gli annunci del meteo. Ultima settimana di passione prima del caldo. Ci attende ancora pioggia negli ultimi giorni. La vediamo proprio ritratta in questa immagine. Non ci fa certo piacere però sicuramente ci si prespetta proprio un'ultima settimana per poi trasportarci direttamente in quella che sembra essere la calda e tordida estate. Se aspettate il sole e il caldo infatti conviene che prendiate una sedia perché l'attesa durerà ancora un po' secondo gli esperti. Infatti quella che sta per iniziare sulla provincia di Caserta è una settimana ancora autunnale. Da lunedì a giovedì infatti sono previsti forti temporali con le temperature che resteranno comunque abbastanza alte fino a 19 gradi di massima previsti per la giornata di oggi ma il sole non sarà molto presente nelle nostre giornate. Per vedere un lieve miglioramento basterà e bisognerà aspettare il prossimo weekend sperando che la pioggia decida finalmente di abbandonare la provincia. Noi ce lo auguriamo. Ancora vediamo gli altri fatti. In primo piano il pentito. Ci spostiamo appunto sulla cronaca di Marcianese una taglia da 100 milioni per uccidere il boss in cella. Il rifiuto di Piccolo a Napolitano alla base del passaggio dei Quacquaroni ai Mazzacane. E infatti l'accordo in carcere con il passaggio di Felice Napolitano nelle fila del clan Belforte il suo ruolo di infiltrato nel gruppo rivale dei Piccolo e l'uccisione del boss Angelo Piccolo. E questo è uno dei momenti nodali della guerra per il dominio del territorio di Marcianese degli anni 90 tra i Mazzacane legati alla NCO di Cutolo e i di Quacquarone legati alla nuova famiglia di Bardellino e quindi al clan dei Casalesi. E da determinare il passaggio di Napolitano nel gruppo rivale ci sarebbe stato il rifiuto da parte di Piccolo a pagare una taglia da 100 milioni per far uccidere Domenico Belforte in carcere. Ancora vediamo le altre notizie e vediamo Di Maio in ospedale dal carabiniere eroe Pasquale Pronto. Il vicepremier ha incontrato infatti Pasquale Casertano il militare ferito in un agguato nel Foggiano e vediamo proprio la foto di Di Maio con il giovane carabiniere. E infatti dopo il premier Conte anche il ministro sviluppo economico Luigi Di Maio leader nel Movimento 5 Stelle è andato a visitare Pasquale Casertano il carabiniere di Caserta che lo scorso 13 aprile è stato vittima di un agguato a Cagnano Varano Foggia assieme al collega Vincenzo Di Gennaro maresciallo dell'arma che ha perso la vita nel ride compiuto da Giuseppe Papantuono Pasquale ancora in ospedale ma le sue condizioni sono decisamente migliori come rivelato dallo stesso Di Maio Pasquale grazie al cielo sta bene appunto detto Di Maio ed è pronto a ripartire più determinato che mai questo è lo spirito dei nostri carabinieri e noi dobbiamo supportarli e sostenerli ogni giorno chi tocca un carabiniere tocca lo stato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano dalle testate locali ma in particolare vediamo quello che è lo sport raccontato questa mattina dal Caserta Focus e vediamo che un'impresa eccezionale è stata compiuta ieri dalla Golden Turip Volalto 2.0 le ragazze di Patron Turco che stanno lottando per rientrare in Serie A1 la prima è andata infatti non si passa al Palavignola titola proprio così vediamo l'immagine delle Volalto insieme al sindaco della città è gara 1 della finalissima dei playoff contro la Zambelli Orvieto senza storia al Palavignola le rosa nero di Patron Nicola Turco schiantano per 3 a 0 le avversarie Umbre al termine di una partita durata 76 minuti e che ha visto Caserta dominare praticamente per tutto il match giocato solamente il secondo set poi la gol dei Turip si è presa la vittoria con una prestazione sontuosa appuntamento adesso a mercoledì prossimo alle 20.30 per la gara 2 Caserta può già festeggiare in caso di vittoria sarà Serie A1 e noi lo auguriamo a queste ragazze che stanno dando il meglio di sé e soprattutto stanno facendo vedere a Caserta lo sport come è in grado di fare squadra e soprattutto di aggregare tante tante persone soprattutto di questa nostra città troppo spesso raccontata come una città dove non c'è assolutamente nulla ma noi non ci crediamo e andiamo oltre e per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi termina qui ringrazio tutti voi di essere stati con noi di aver scelto Teleprima e soprattutto ringrazio Tecno Campus che come ogni giorno ci offre la possibilità di fare informazione insieme a voi vi auguro una splendida giornata e soprattutto un buon inizio settimana e come sempre ci vediamo domani Grazie a tutti Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti